L'incontro di oggi che è stato promosso dal Centro Cure, un centro di ricerca universitario da poco fondato sul community engagement, è finalizzato al mettere insieme tutte le esperienze che si sono state realizzate grazie all'Università di Catania a favore dei rifugiati e dei migranti. L'intento però non è solamente quello di raccogliere queste esperienze, ma di incominciare a riflettere su cosa l'Università può fare per supportare in maniera sistematica l'integrazione dei migranti e dei rifugiati, quindi venire fuori dall'attività episodica e cercare di costruire un sistema, una rete, facendo sì che l'Ateneo assuma come propria mission questa necessità, quella cioè di far fronte ai bisogni che la società esprime e in questo caso che esprimono i migranti e i rifugiati poter essere integrati. Oggi in Ateneo, nell'Aura Magna, si tiene questa conferenza di servizi sul tema dei migranti e dei rifugiati, un tema che vede molti protagonisti insieme all'Ateneo che ha voluto sollecitare una sorta di collaborazione su questo tema di straordinaria attualità e di grande importanza sociale. Sono intervenuti, intervenranno molti attori, molte istituzioni, molti docenti dell'Università, segno appunto della sensibilità che vi è oggi rispetto a questo tema e nel fatto che l'Università intende appunto fare la sua parte rispetto a questo importante problema. L'Officine Culturali collabora dal 2010 con l'Università di Catania per la valorizzazione e la fruizione dei musei universitari. Ci siamo chiesti da subito a cosa potessero servire i musei e i musei universitari in particolare. Ci siamo risposti che è importantissimo che abbiano tre funzioni, di conoscenza, di consapevolezza ma anche di coesione sociale. Il tema dei migranti è un tema importante, è un tema sociale, è uno dei temi sociali di questa città e l'Officine insieme a Cooperativa Prospettiva e Save the Children sta intervenendo su un minore non accompagnato provando ad avviare un percorso professionalizzante che poi gli servirà nella sua vita di nuovo cittadino italiano. È già da un anno che abbiamo iniziato un percorso con l'Università di Ragusa e l'amministrazione di Santa Croce intende promuovere tutte quelle azioni che portano la convergenza di enti sia pubblici che privati. Riteniamo che l'Università sia uno dei partner migliori per poter implementare alcuni interventi all'interno del territorio. Educare alla convivenza, alla finalità di creare dei percorsi interculturali all'interno del territorio ragusano che permettono di fare un modello da presentare anche negli altri comuni.